Con la palla che all'ultimo si passa ma soprattutto cambia traiettoria, si accentra e la parata poi vedremo meglio come l'ha presa a gas e ha ricordato un po' il movimento e la mossa dello scorpione di vita ogni volta che la Siria insomma si stetta a credere che sia possibile che la mossa fa una cosa delle scelte Ma pure non sapevi che sia un'esempiazione A Wembley mi interravo l'ombia quindi era una partita comunque di un certo spessore La differenza tra l'intervento di Wembley e quello di Agazzi di oggi è che il vita potrà tranquillamente prendere la palla tra le braccia e accingersi a rinvio come si diceva una volta Agazzi invece quando ha capito che non poteva arrivare col guantone sulla palla guarda qui, ci ha messo volontariamente, l'abbiamo visto con l'arito di Piero, il tacco Poi da dietro c'è stato bravissimo a cercare di mettermi il tacco alla gama